Se vuoi organizzare la tua vacanza, scegli Trezza Travel, agenzie per viaggiare. Chiedi la consulenza di Trezza Travel, agenzie per viaggiare e vieni a trovarci in via Balzico 51, nei pressi degli uffici dell'Ausino. Si è tenuta ieri, mercoledì 8 marzo, nell'aula consigliare del Palazzo di Città Metelliano, la cerimonia di premiazione del concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, le parole sono ponti, ideato per ricordare Elisabetta Sabatino, organizzato dal comune di Cava dei Tirreni e da lì Isgaetano Filangiri. Il concorso prevede una prova di scrittura libera su un argomento attinente a quelle che sono state le tematiche care all'insegnante scomparsa prematuramente allo scopo di portare avanti quello che è stato il suo impegno di vita, oltre che di docente. Il tema su cui si sono concentrati gli oltre 300 studenti che hanno partecipato quest'anno è la diversità e quindi la valorizzazione delle differenze. Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato i membri della giuria composta da Franco Bruno Vitolo, Gabriella Liberti e da Paola e Barbara Sabatino, Sorelle di Elisabetta. Questa iniziativa è veramente molto bella che ha messo in atto il comune di Cava dei Tirreni proprio nella giornata internazionale della donna, proprio a sottolineare la persona che era Betti. Quello che noi abbiamo premiato sono soprattutto, a parte la creatività proprio narrativa, ma anche il contenuto che riguarda sempre le parole sottoponti, la possibilità di dialogo, la possibilità di avvicinarsi agli altri e la valorizzazione della differenza, che erano temi a Betti molto cari. Quello che colpisce sempre ogni anno è il bisogno di parlare, di raccontare e di raccontarsi. Un bisogno che non sempre trova l'ascolto adeguato. Quindi io credo di poter dire con una certa sicurezza che la scrittura è un mezzo attraverso il quale forse a volte chiedere anche aiuto al mondo degli adulti. Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria scuole primarie è stata l'alunna del quarto circolo Valeria Della Rocca. Ludovica Sabatino della Giovanni XXIII si è classificata prima invece nella categoria scuola secondaria di primo grado. Infine, per le scuole secondarie di secondo grado, a trionfare è stata Gaia Mirra del liceo classico. Martedì 7 marzo è stato inoltre presentato, sempre a Palazzo di Città, il libro La Felicità del Pensare, una raccolta postuma di testi e pensieri di Elisabetta Sabatino. L'anno scorso, nel mese di maggio, la scuola medio Giovanni XXIII, dove Betti aveva trascorso i suoi ultimi anni professionali, hanno voluto dedicare una mediateca alla sua memoria e in quell'occasione fu lanciata questa sfida che quest'anno, la quarta edizione, l'avremmo fatta precedere da una pubblicazione di qualche suo lavoro.